volevo fare una breve premessa prima di farvi vedere il video con i temporali non si scherza quel giorno eravamo molto felici ed eccitati perché le previsioni non avevano messo onde e ci siamo ritrovati in acqua con delle belle onde poca persone e ci stavamo divertendo molto il temporale è arrivato velocissimo siamo rimasti in acqua fino all'ultimo momento avevamo il temporale sopra la nostra testa il vento ha girato fortissimo da terra ha iniziato a grandinare volavano piante ombrelloni lettini era veramente pericoloso anche solamente attraversare la spiaggia per fortuna ci siamo riusciti a rifugiare nel primo stabilimento balneare davanti quando il temporale arriva così prepotente il vento può ruotare improvvisamente tirare fortissimo può grandinare possono cascare fulmini sopra la vostra testa quindi la situazione può diventare veramente pericolosa in pochissimi minuti quando vedete il temporale arrivare si sta avvicinando non aspettate fino all'ultimo momento come abbiamo fatto noi in questo video grande sorpresa oggi queste onde da nord est inaspettate veramente una figliata a fine luglio avere le onde circa un metro alla serie senza vento e col sole mentre le previsioni mettevano mare piatto e allora arriva il temporale e allora arriva il temporale è bisogno di stare attenti perché è lì onde ti sono o no ma guarda gli uccelli che roba che stanno facendo su 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 quanto mi lo posso arrivare ooooh 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 andiamo a tappare vediamo da stare fortissime vola via tutto non 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 oh madonna che onde ora il vento ha tirato talmente tanto forte da terra che le onde sono chialate notevolmente le ultime onde che abbiamo avuto con il vento da terra erano molto belle ma adesso il vento è forte maestrale delido ha grandinato la temperatura si è abbassata notevolmente le onde sono molto viste e dunque